Armato di cinque coltelli ed una katana, prima ha minacciato alcuni passanti, poi ha tentato di colpire un poliziotto. È stato così un primo giorno dell'anno di follia a Chiani, immediata periferia a Retina. Nel pomeriggio del primo gennaio, infatti, gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo che alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo che, a piedi scalzi, si aggirava per le strade del paese armato ed aveva minacciato una coppia che stava tranquillamente passeggiando con il proprio cane al guinsaio. Giunti sul posto, opportunamente equipaggiati con giubbotti antiproiettile, i poliziotti lo hanno visto darsi alla fuga. È così partito l'inseguimento. L'uomo, un 38enne bengalese, si è rifugiato nella sua abitazione, vicino alla zona dove si erano svolti i fatti. I uomini della questura, quindi, gli hanno intimato di uscire con le mani in alto. Dopo alcuni minuti, il 38enne ha aperto la porta di casa e ha gettato a terra i coltelli. Così, gli agenti sono intervenuti per bloccarlo, ma in quel momento il giovane ha afferrato un'altra lama nascosta nei pantaloni ed ha sferrato un colpo ad un poliziotto. Il giubbotto antiproiettile ha fortunatamente impedito al coltello di affondare nel torace dell'agente. L'uomo è stato immobilizzato e condotto negli uffici della questura, dove è stato arrestato per i reati di tentato omicidio, violenza e resistenza pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e atti ad offendere e minacce aggravate. Il 38enne attualmente si trova nel carcere Aretino di San Benedetto, a disposizione dell'autorità giudiziaria.